adesso il nostro amico thomas cercherà di battere il record mondiale di red bull bevuto in meno di un minuto 12 qui abbiamo 12 40 e lui cercherà di berne in un minuto sei pronto thomas prontissimo appena appena siamo pronti possiamo partire allora via vai 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 famosa veloce veloce siamo dieci non ce la fai e no vabbè Dai, dai dai! Dai, dai, dai Kunta! dai 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 Ma ci fatta due, ci fatta due! Ma è grande! Sì! No! No!